Premi un tasto. Grazie a tutti. 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 Tasto cerchio indietro. Tasto cerchio indietro. Tasto cerchio indietro. Meglio controllare. Meglio controllare. Grazie a tutti. 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 Stupido. Stupido. Grazie a tutti. 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 È un portafortuna. Non credo alla fortuna, ma io sì. Ok, Icrest. Così il posto è questo? Sì, direi che è questo. Deve essere Tommy. Merda! Sì, sì, sì. 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 Manufatti. Sì, sì. Revolver. Sì. 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 Molotov. Ci considerano conigli. Mostra i denti. conigli. 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 co, conigli. conigli. Ah! All right, let's go. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Puoi seminare un cane allontanandoti o creando un diversino. Revolver. Munizioni revolver. Colpi caricati. Sei. Ancora. Uno. In inventario. Kit medico. Tre. Boop revolver. Boop trappola esplosiva. Due. È scivolata lì dietro! Revolver. Munizioni revolver. Colpi caricati. Sei. Ancora. Uno. In inventario. Revolver. Munizioni revolver. Colpi caricati. Sei. Ancora. Uno. In inventario. Setacciamo la strada. Dobbiamo trovarla. Ok. C'è qualcuno nei paraggi. Che c'è? Sei? Sei tipo di colpo? Eccoì! 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 No! Ragazzi, rapporto! Datemi notizie, ragazzi! Non trovo nulla qui. Non trovo nulla qui. Non mi piace. Non trovo nulla qui. 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 Glove poveλλia qui. KIT MEDICO 3 Pistola serie automatica Munizioni pistola Colpi caricati 10 Ancora 6 In inventario 3 Potenziamento mischia Materiali mancanti Non post silenziatore 3 Ora possiede Jack Ok 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 Grazie a tutti. 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 Pistola semi-automatica, munizioni pistola, colpi caricati, 8, ancora, 6, in inventario, silenziatore in uso. Perfetto. Perfetto. Boris. Ma non possiamo, non ora. Dobbiamo usare la testa. Attendere che si calmino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pistola semi-automatica. Potenziamento massimo raggiunto. Potenziamento massimo raggiunto. Perfetto. 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 Grazie a tutti. Fucile a pompa, munizioni fucile a pompa, colpi caricati, sei, ancora, due, in inventario. Bene. Ah, che puzza. Odio gli shambler. Creazione. Molotov. Trappola esplosiva. Ora possiedi. Molotov. Crea di. Ora poss... Pistola segna automatica. Munizioni pistola. Colpi caricati. Dieci. Ancora. Sei. In inventario. Silenziatore in uso. Possieli. 52. In creazione. Kit medico. Invento. Energia incrementata. In cre... Movimento da disteso rapido. Apprendibile. Incrementa la velocità di movimento da dist... Silenziatori migliorati. Integratori. Premi. Pulsante touchpad. Per aprire il menu dei potenziamenti. Pulsante touchpad. 7. sei in pieni, energia, 76 tasto L2, sport all'aperto, in questo numero, recensiti 15 mirini per fucili da caccia 10 cose da sapere prima di scuoiare un cervo, a caccia di affari, gli sconti migliori su coltelli, fotocamere, visori notturni e altri strumenti tasto cerchio muovo ramo di potenziamento, precisione, premi, energia incrementata, integratori insufficiente, silenzio, incremento stabilità mira, blocca, precisione, incremento stabilità mira, integratori insufficienti pulsante touchpad, per visualizzare venite a prendermi stronzi di amine grazie 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 ui, sai che resteremo sempre legati a El Crest ma dopo la morte di Sofia abbiamo deciso di trasferirci allo stadio insieme agli altri. È necessario per proteggere i nostri figli. Famiglia Brandman. P.S. abbiamo vinto. Bomba fumogia. Trappola esplosiva. 1. Fucile a pompa. Munizioni fucile a pompa. Molotov. 2. Ok. Con calma. Su per la collina. Fucile a pompa. Munizioni fucile a pompa. Colpi caricati. 6. Ancora. 2. In inventario. Fucile a pompa. Fucile a pompa. Fucile a pompa. Kit made. B.S. trappola esplosiva. 1. Ah no. Un altro. Bloccata. Bottiglia. 1. Mattone. Molotov. 2. Fucile a pompa. Fucile a pompa. Munizioni fucile a pompa. Colpi caricati. 6. Ancora. 2. In inventario. Bloccata. 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 guerre. Bloccata. 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 Lo scoputo. Bloccata. 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 Unario a pompa. 2. Bloccata. vlf dio santo posso capirlo gli hanno ammazzato una figlia ma così ci ha condannati a morte l'unica soluzione è consegnarlo so che siete amici ma se i lupi hanno sparato a una ragazzina per dei graffiti non oso immaginare come reagirebbero con la comunità se scoprissero che tra noi si nasconde l'assassino di tre dei loro vediamoci al solito posto dopo il coprifuoco creazione chi trappola esplosiva ora possiedi tra energia incrementata in crezzi incremento stabilità mira apprendibile migliora la stabilità e la precisione della mira in movimento più 100 per cento stabilità più 100 per cento precisione revolver munizioni revolver colpi caricati 6 ancora 2 in inventario per cento di Ehi! Del ti chiederà la combinazione della cassaforte, ma è meglio se vai tu di persona all'officina per inserirla, altrimenti ti scoccerà altre otto volte. E30-82-65. Qualcuno dovrebbe fare due chiacchiere con la moglie. Capisco che spera che prima o poi migliori, ma è ora di essere pragmatici. Dicono che il VLF abbia dei veri medici alla base. Nessuno l'abbiasimerebbe se ne approfittasse, a parte Boris, ma lui può andarsene a fanculo. Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti. 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 Inventario. Molotov. Ora possiedi. Revolver. Munizioni revolver. Colpi caricati. 6. Ancora. Inventario. Revolver. Munizioni revolver. Colpi caricati. 6. Bottiglia. Moloto. Bocchino. Trappola esplosiva. 1. Revolver. Munizio. Bocchino. Moloto. 1. Trappola esplosiva. 1. Che cazzo! Bottiglia Molotov Uno Fucile a pompa Munizio Fucile a pompa Polpita Spera Angolo Uno In inventario Che cazzo era? Creazione Trappola esplosiva Ora possiedi Trappola esplosiva Bombe fumogene Creazione Trappola esplosiva Ora possiedi Revolver Munizioni revolver Colpi caricati 6 Ancora 2 In inventario Revolver Munizioni revolver Colpi caricati 6 Ancora 2 In inventario 0 0 0 Di 31 30 31 30 Tasto croce Inserisci Tasto Sei davanti a una cassaforte chiusa Opzioni Creazione Enel Collezionabili Combi Messaggio sulla consegna di Doris Collezionabili Collezionabili Combinazione di Dale Collezionabili 31 30 31 30 Tasto croce Inserisci 31 5 7 82 81 70 65 Tasto L2 Ingrandisci Levetta sinistra Ruota Tasto cerchio Equipaggia Fondina arma corta Treno Tasto destra Per visualizzare Revolver Pistola semi-automatica Muniz Revolver Munizioni revolver Colpi caricati 6 Ancora 5 In inventario Devono essere chiusi qui dentro da anni Adio Levetta sinistra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, cos'è stato? Ah, merda. Sei stato tu, Tommy. Ré, pistola semi-automatica. Munizioni pistola, colpi caricati, 10, ancora, 6, in inventario, silenziatore in uso. Ehi, cos'è stato? Ehi, cos'è stato? Carta collezionabile. Brainstorm. Premi. Pulsante touchpad. Per visualizzare. Iolanda, mi dispiace. Non posso continuare a prendermi cura di Alfie. Avevi ragione sui lupi. Si sono rivelati un male peggiore dell'esercito. Quello che non mi aspettavo è la mancanza di unità del quartiere. Hanno visto tutti ciò che i lupi hanno fatto alla mia Sofia. E qual è stata la loro prima reazione? Provare a rimediare? Avevo diritto a esigere la mia vendetta sui lupi. Avrebbero dovuto appoggiarmi. Invece, mi hanno tradito. Per questo ho iniziato da loro. Cristo. Saldi. Sconti da prendere al volo. Fermatevi a Rosemont per approfittare di offerte imperdibili. Presentando questo coupon avrete diritto a uno sconto del 25% sull'intero acquisto. Creazione. Kit medico. Invento. Moloto. Creabile. La formula. Potenziamento. Silenziatore. Ora possiedi. Silenziatore. Energia incrementata. Crea. Silenziatori. Movimento mira rapido. Apprendibile. Incrementa la velocità di movimento in fase di mira. Più 50% velocità a movimento. Co. Cazzo! Mollami! Fucile a pompa. Munizioni fucile a pompa. Colpi caricati. 5. Ancola. 2. In inventario. Si, niente male. Premi. Pulsante touchpad. Per visualizzare. Creazione. Frecce. Creabile. Ora possiedi. Frecce. I. Vaccine. Genio. Non. Chissile. Non. Bel modo di usare i manichini Tieni premuto Tasto L2 Per mirare con l'arco Ok A volte è possibile recuperare la freccia Dopo un colpo alla testa Sono arrugginita Ci so ancora fare Un'altra intrusa Una ragazza Dov'è andata? Non lo so ma quello stronzo è vicino Merda I bersagli sono due Quel fumo da dove viene? Ha fatto saltare un camion Perché non l'avete fermato? Dobbiamo trovarli Voglio quegli intrusi del cazzo Opzioni Revolver Muniz Arco Frecce Colpi caricati 1 Ancora 5 In inventario Opzioni Moda Carica Salva Nuovi dati Salvataggio manuale Salvataggio manuale 2 Seatle Sovrascrivere quest Si Salva partita Opzioni Modal Tut Sacca Riavvia Torna Tornare al menu principale Si Premi un tasto Mi J면 Questa S own Mi 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 Grazie a tutti